Proprio nel campo della rinnovazione cardiopolmonare, se funziona, e funziona, questo lo sappiamo, è una delle poche cose che funzionano nell'arresto cardiaco, però funzionano se sono fatte presto e dai testimoni dell'arresto cardiaco, che sono spesso persone che si trovano lì per caso o per altri motivi, che però non sono dei sanitari nella maggior parte dei casi. Quindi la sopravvivenza di tutti dipende da quanto gli altri ci girano intorno nella vita di tutti i giorni, sono capaci di applicare le manovre di rinnovazione cardiopolmonare nei primi minuti. Poi i sanitari fanno il resto, però senza la prima parte funziona. Grazie.